Bentornati alla rubrica sopprosi ad una moglie che vuole fare i cavoli suoi in cucina invece tocca fare il video. Allora partiamo con la ricetta del marito di cioccolato, è il salame di cioccolato. Ingredienti, questa è la mia versione presa da mia madre e poi rielaborata da me. 75 grammi di cacao amaro, 250 grammi di zucchero, 100 grammi di cioccolata fondente e 100 grammi di cioccolato al latte. Quindi in tutto 200 grammi. Io ho utilizzato degli scarti, tra l'altro c'è quella al pistà, 200 grammi di burro, se ne può mettere anche di meno, 4 ove e i biscotti. Il big nutritivo della Giampaoli, ditta fantastica, è il non migliore. Secondo me. E la confezione è da 800 grammi, se uno ha degli avanzi ci mette quello che c'ha. Io uso questo. Ciao. Noi iniziamo tagliando i biscotti in pezzi di 3-4 pezzi. Grossolanamente. Grossolanamente. Io ho questo fantastico raccogli briciole. Le briciole non vanno buttate, servono all'impasto. Poi siccome la quantità è tanta, quello che cede lo faccio scivolare sulla carta da forno. Ecco, guardate. Uno, due, ecco più o meno così, grossolanamente. I biscotti tagliati grossolanamente, l'onora li ha rimessi dentro il sacchetto. Conviene rimetterli nel sacchetto perché sono utili poi per la lavorazione. Vedete le molliche, adesso le buttiamo dentro. Tutte le briciole vanno qui dentro. Le briciole, è vero, non le molliche. Adesso rompiamo le uova, le sbattiamo molto bene e aggiungiamo una bella presa di sale. Ma che vuoi? Sei sempre inquadrà. Poi si batte, si sbatte. Batto io, sbatto io. Scherzate. Una volta che le uova sono battute molto bene, molto, 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 andiamo sulla pentola. Ci vuole una pentola alta, usciamo il nostro burro che era congelato e con lo zucchero. A fiamma stavi dicendo? Bassissima. Super super bassa, non deve nocciolare, deve semplicemente sciogliersi ed amalgamarsi. Il burro si sta sciogliendo. Visto che il burro ormai è quasi fatto, intanto ci buttiamo la cioccolata e andiamo a sciogliere anche quella. Sempre a fuoco bassissima. Non è grasso sto dolce, no. Allora, siamo verso, questi tempi si accorciano eh, perché il più era fa a sciogliere il burro e il cioccolato. Vado del cacao e mi aiuto con la frusta, tolgo i grumelli così, no? Poi una volta sciolto il cacao. Ok, adesso è caldo ma non troppo. Ora andiamo giù di uovo. Siccome vede, non dobbiamo cuoce le uova perché sennò c'è bisogna stare attenti e non fa venire la frittata. E' affattato di dolce salame, mi piace. Come vedete l'uovo sa densa eh, mi rende tutto molto addensato. Colposo. No colposo. Coloso. Ecco, vedete che è venuta questa bella cremozza. la facciamo stare qualche minuto. Girando sempre per noi. Eh, mi mamma diceva fuori e dentro, fuori e dentro dal furnello acceso. Ah sì? Però non fa cuoce l'uovo. Però vedete che dai bordi, non so se si vede, si sta stacca la crema perché si sta separando la massa grassa. Quindi bisogna stare un po' attenti. Però nel prattempo io cercavo anche da una scaldata all'uovo. Eh, è un po' pastorizzata ma come temperatura ma se ci siamo io faccio così, faccio la prova di cosa è calda calda. Non è tanto. Ce l'avremmo noi. Scientificamente pastorizzata. Un termometro noi ce l'avremmo ma che rosi. No, lo tieni nel cassetto. Allora, giù dei biscotti. All'inizio si avrà l'impressione che la crema non sia sufficiente. Non è così. Adesso l'obiettivo è girare tutto e amalgamare tutto. E chiudere questo video perché... Sempre col fornello acceso, basso, basso. Come vedete la crema era più che sufficiente. Allora adesso è pronta. Il gas è stato spento e ci spostiamo sul... Ci sono andati. Sulla penisola. Dove abbiamo già preparato, ha preparato l'onora due fogli di carta forno e li versiamo. Versiamo il dolce. Allora, metà l'impasto di qua. Poi ci vuole la marisa. Con una marisa andiamo a recuperare la cremina bonina bonina. Tutta la cremina. Non si spreca niente qua. Ma scherzi la cosa più... Più godosa, goduriosa, goloso. Era una via di mezzo tra goduriosa e golosa. Godosa. L'Accademia della Crusca ci fa un baffo a noi. Sì, sì. Scusate, hanno inventato petaloso. Io potrò di... Non l'hanno godoso. Godoso. Allora, se siete arrivati fin qua, scrivete godosa. Ora, scusate, io di solito sono più ordinata, ma naturalmente... C'è il mastro in piccio, quindi... No, ci stanno le telecamere, quindi te li impiccite. C'è il favore, c'è la mondovisione di YouTube che... Adesso dobbiamo... Dai, una forma di salame. È l'onora. Questa è la parte più difficile. Dai, la forma del salato, del marito. Si compatta e si fa lo stroncicotto. Senza scottarsi, perché è caldo. Questo qua adesso si buricchia a caramellozza. Uh, fico. Ora che sono belli insalamati... Sì. Li faccio raffreddare qui. E vanno in frigorifero. Deve rassodare proprio. Proprio deve diventare duro. Quanto tempo più o meno vanno in frigorifero? Tre quattro ore? Se ci avete fretta, fate un'oretta di freezer che diventa... Un congelatore. Ok. Perché poi dopo, se sono caldi, non si scartano bene, capito? Se rimane tutto il godurioso, sono sulla carta forno. La godosa. La godosa. Cioè, non solo mi ha costretto a fare il video, ma pure abbandonato. Ad è che mi serve uno che regge la telecamera, perché io ce l'ho da fare con questi salamotti. Comunque, è freddo. È durello. Lo dobbiamo scattare e spolverare con lo zucchero. Io lo spolvero con lo zucchero semolato. So che molti lo spolverano con lo zucchero a velo. Io ho semolato. Ma prima di procedere, io direi di bere un bicchiere di acqua, così, a caso. Perché è rinfrescante, corroborante, energizzante, depurante. C'è tante. Questo video non è sponsorizzato. Ah, fra sassi. E digerisci pure gli sassi. Comunque, io l'ho scartato tutto. Mi è rimasto molto appiccicoso. Stavolta non so perché non mi è riuscito bene. Comunque, procedo con... E ce lo rotolo dentro. Con e ce lo rotolo dentro. Non si può sentire, ma tant'è che devo fare 30 cose contemporaneamente. Ciao. Questo è il risultato finale. Io poi lo avvolgo con la carta bella, perché la carta brutta è qui, mezza strappata. Poi lo avvolgo ben bene, lo metto in un sacchettino, lo chiudo, lo metto in frigorifero. Sta anche fino a due, tre settimane, anche un mesetto. Lo tagliate a fette minimo di un dito. E buon appetito. Ciao. Ok, dai. L'assaggio. Ultimo pezzetto avanzato. E' buonissimo. Fatelo anche voi. No, il dolce salame. Il dolce marito di cioccolato. Ciao, è buonissimo.